Preside Sironi, già a inizio lo scolastico ha lamentato diverse criticità, tra cui la carenza di aule. Qual è al momento la situazione? La situazione al momento è che non c'è stata data nessuna risposta, nel senso che noi continuiamo come abbiamo sempre fatto, abbiamo già iniziato con rotazione e doppi turni. Stiamo facendo tante belle cose, mi piace proprio adesso stiamo facendo tutte le attività di laboratori in orario extracurricolare con le famiglie. Mi piace dirlo perché stiamo dando veramente un bel esempio di comunità scolastica. Questa vicenda dei doppi turni ci penalizza, ci crea grandi problemi, ma come dico abbiamo le spalle larghe, quindi reggiamo. Stiamo insistendo in modo particolare in questo periodo perché sull'isola d'Ischia la città meraviglietana sta operando alcune iniziative di edilizia scolastica e provvedendo a trovare spazi per altre scuole a questo punto ci è sembrato giusto in qualche modo farci sentire e dire ci siamo anche noi. Ma nel frattempo noi continuiamo ad andare avanti.